Anche un bel tasso di polemica politica. Non è tornato normale niente purtroppo, però la polemica politica come tutte le polemiche fa parte della vita, non è eliminabile. Soprattutto più alta è la posta in gioco, più quella che noi chiamiamo polemica, a mio modo di vedere, può anche essere configurata come sana discussione per vedere che cosa è meglio per noi. Perché di sicuro era più facile chiudere tutto che non capire come si riapre, questo è il tema, no? Ma diciamo che la paura ha favorito una certa fase in cui gli italiani, come è stato detto e stradetto, ed è anche una risposta all'appello alla responsabilità che si faceva prima, si sono dimostrati più che responsabili, ma non basta e non si esaurisce lì. Sono due mesi che ci sentiamo dire state in casa e lavatevi le mani, non può essere così, è questo evidente. Sentivo prima dire non è il momento, è un altro argomento che si usa. Io ricordo che abbiamo vinto l'unica guerra forse che ha vinto l'Italia, l'ha vinta cambiando il comandante in corso. Lei pensa che in questo momento, che questo potrebbe essere un momento, mi dica solo sì o no, poi entriamo nel merito? Cioè questo è il momento giusto per ragionare se togliere la sedia a Conte? Io sono assolutamente convinto che Conte sia l'uomo sbagliato al posto sbagliato in questo momento. E quindi va bene ragionare in questo momento e togliere la sedia? Benissimo, fatemi vedere la giornata di ieri, poi mi spiega il dettaglio ovviamente, entriamo nel merito, vediamo.